Sono passati più di 13 anni dall'alluvione che nel ottobre-novembre del 2008 sconvolse, Gravellone in particolare questa zona, quella del Rio Lovic, a distanza di 13 anni possiamo dire che l'area è ormai quasi tutta in sicurezza, si sta iniziando e il prezzo si concluderà il terzo lotto. Sì, questo è il terzo lotto di lavori che va a completare l'allargamento della sezione di deflusso del Rio Lovic che nel 2008 fece un bel disastro a Pedemonte. È un lavoro di una certa importanza che almeno per quanto riguarda questo rio ci mette al sicuro da possibili eventi alluvionali. Resta il problema di affrontare gli altri sui quali stiamo già progettando gli interventi e per i quali stiamo cercando le risorse, confidandone il fatto che ci sia davvero la possibilità di un po' alla volta mettere in sicurezza tutto il territorio alla luce delle nuove condizioni meteorologiche che spesso sono molto più intense, molto più concentrate, molto più violente del passato. Quindi è un grande lavoro che dobbiamo fare. Che cosa prevede il terzo e ultimo lotto? Sostanzialmente è l'adeguamento della sezione di deflusso come per quanto riguarda i primi due lotti per tutta la parte che attraversa il centro abitato e che poi finisce nella parte più a valle, nella campagna e che va a unirsi al Rio Inferno per poi finire nel toce. È una parte importante perché interessa molte proprietà private e si è dovuto quindi chiedere la pazienza dei privati, dei residenti andando a lavorare proprio nel loro giardino per poter allargare questa sezione che era stata negli anni 70 completamente tombata ma con una sezione ridotta e che quindi adesso impone un lavoro piuttosto invasivo e quindi le ringraziamo per la disponibilità però per fortuna c'è un'impresa che sta lavorando molto bene e che sta andando anche incontro alle esigenze, alle difficoltà e ai disagi di questi giorni di chi vive nel proprio giardino questo lavoro.